Lei è Margarita Meglitz, poco tempo che sta con noi, però ho già fatto grande cose. No, no, io dipingo dal 2020, insomma. Dipingi da poco, perché noi ci stai da un annetto. Da un annetto. Però ho già fatto cose importanti. Sì. Prego. Io ho fatto il lago di Wolfsena, con il crucifizio. Ho voluto rappresentarlo così, con tutti i colori allegri, perché Dio è allegria. Ho fatto... Gesù Cristo non le ho voluto mettere la faccia perché lascio a voi interpretare la loro sacris... di Dio è la loro esempio. Insomma, l'ho messo su tipo una roccia che si vede e lascio immaginare. Bene, con questa apertura verso la speranza. Sì, la speranza, esatto. Qui invece ho fatto bagnaia. Ho rappresentato una mano con le artiglie che esce del fuoco e brucia la Bibbia. Quindi, ho voluto rappresentare questo come una cosa profana. Dato che la Bibbia è un strumento di sacro valore. Per me è stata una cosa fortemente profana. L'hai fatta proprio per questa occasione? Per questa occasione, tutti e due l'ho fatto. Per questa occasione l'ho fatto con un acrimico. Tutti e due, perché così, mentre asciugava tutto. Anche perché se lo facevo con l'olio, lo facevo in tempo. Quindi abbiamo dei quadri proprio fatti per l'occasione. Per l'occasione proprio, ne ho fatto. Bravo. Grazie.